11 novembre, oggi è lunedì, sono le 3.40 del pomeriggio, stiamo andando a lavorare con mio padre Antonio, saluto Antonio. Allora, l'aspetto è brutto, lo riconosco, ma credetemi che è uno degli spuntini migliori per freschezza e valori, soprattutto quando siete in una giornata magari low carb, voi sapete che io non conti macro, però oggi ho voglia di grassi. Qui ho messo mezzo avocado maturo, che è buonissimo, e una confezione di fiocchi di latte, questi qui con yogurt di exquisa, quindi abbiamo proteine e grassi, però per migliorare il sapore ci vuole anche un po' di olio extravergine d'oliva, ragazzi. E ora lo vado ad abbinare galletto fette biscottate, dovrò decidere, però ragazzi è una delle cose più buone e fresche che ci sia, soprattutto quando vi dovete mettere a lavorare al computer in casa, aprite tutte le finestre per riuscire a creare una corrente. Snack, top, top. Snack o pranzo dipende, perché se da due gallette si passa una decina di gallette, diventa un pranzo. La bontà. Nella sua semplicità è uno dei pasti più buoni e rinfrescanti che abbia fatto negli ultimi mesi. Top, top. Anche voi siete selvaggi come me e non apparecchiate la tavola quando siete da soli. Bisogna risparmiare, ottimizzare il tempo e tutto. Utensili, almeno non perdite un po' apparecchiare e sparecchiare. Allora, adesso parliamo di un problema, serio, molto serio. Ste fottute farfalline. Io le devo uccidere. Sterminare. Ho comprato i foglietti. Non bastano, nel senso ne trovo due milioni appiccicate, quindi uccise. Non riesco a trovare il covo, la fonte, dove si riproducono ste schifose. Butto via tutte le farine che ho, cosa che non voglio fare. Oppure mi metto col passino a verificare tutte le farine e a vedere se ci sono le uova di ste farfalline schifose. Che incubo, che incubo. Fra le formiche e le farfalline non so chi mi stia facendo dannare di più. Two hours later Yeah Three chains I just wanted to say that, that's all That's all we wanna do, man Yeah, hey tune, I'm doing something different, nigga Follow my lead Yeah Black whip, black rims, yellow bitch, red bone Big hips, blue eyes, big lips, hair long Big, thick as shit, bad as fuck, me and her tune, nigga add it up If you love your girl, you wanna keep your girl, don't let me meet you girl, cause I'm not true Two niggas in one whip, with two scraps and a pound of green, with a mouth full of that gold shit True and lit is my fucking jeans, red hat, red chucks, red dress with a red... No, no, no Vediamo cosa ci riserva la Chiara Questa è la riscaldamento Addome No Maria, io esco Cosa mi vuoi far fare? Cosa mi vuoi far fare Chiara? Doppio carpiato Ok Io vi volevo farla finita con questa vita Casa Studio La Chiara mi ha trovata la soluzione La soluzione è molto easy Doppio carpiato No, adesso, a parte gli scherzi, continuiamo subito Perché è poco il tempo Doppio carpiato 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 Canva Cosa cosa mi vuol dire? Queste trazioni maledette perché con l'intervento al seno è un casino farle Ma vabbè, con l'elastico che mi aiutava l'ho fatta ovviamente E niente Non allenavo così l'addome prima di fare box Ma è fondamentale averlo molto duro Perché se ti arrivano un fottutissimo cazzato nella pancia E non c'è l'addome pronto, è tirato Sei fottuto Riscaldamento finito E direi che mi sono riscaldata E adesso andiamo a fare un po' di sparring Vuoi poi facci come i miei? Se vuoi guarda te li vendo Li svendo pure perché io li ho sempre odiati Fra me, mia sorella e mia mamma guarda ne abbiamo per tre Per cui chiunque fosse interessato facciamo un bel change Questa è proprio una palestra storica Nel senso in cui lozza Lo dico a bassa voce Però a me piacciono le palestre così perché si sente il sudore E quindi sono le vere palestre Quelle palestre da fighetti, tutte pulite, perfette Di qua e di là in cui la gente fa finta di allenarsi o meglio Va lì per prendere la barretta proteica di ultima generazione dalla macchinetta E a fare Diciamo A flirtare Con la gente E non è il mio posto Anzi Io mi metto le cuffie in quei posti E Entro con una faccia molto scazzata In modo tale da Allontanare qualsiasi potenziale E Sujeto 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 playing with porn stars Sujeto playing with porn stars Sujeto bitch I'm going hard Start out to my dealer Real drug dealer Pines on, pines on, pound trick Turn this bitch to gorilla This ice I'm a rich vanilla And if I go too deep I'm a killer She like that dope dick So I hit her with that killer I'm a rich ass nigga Paid gold figure Got a couple bells in my wallet Shitting on them I need a toilet I get high, no looking down Two clips, a hundred round It's going down in Toontown It's my crown, I'm the king now Yeah, some young niggas from the loo My boys like, nigga, who are you? Yeah, the niggas know I let my pants in So don't ask me why my motherfucking pants in Couple bells in my pocket 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 In after Ho tirato fuori Un filetto Di salmone Che ha tirato già fuori Tutto il suo grasso E quindi Fa questo casino Due, tre pendolini Perché Zero verdure fresche in frigo Devo andare a farla stesa Poi ho questi cracker Che adoro Riso su riso Della galbusera Sono integrali Con riso soffiato E mi piacciono tantissimo Perché sono super croccanti Perché non ho voglia di mettere a cuocere Il riso Visto il caldo che fa E diventerà Lo tocco perché mi brucio Top Voilà Filetto di salmone Con pendolini E cracker integrali Di riso Top Buonissimo Altra razione di cracker Buon appetito Buon appetito Soltanto per stasera Amore capoeira Cresciosa in una piena Come in una favela Buu 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 You gotta put your past Behind you Look kid Bad things happen And you can't do anything about it Right? Right Roar When the world turns its back on you You turn your back on doom Well that's not what I was told Then maybe you need a new lesson Repeat after me Hakuna Matata What?